Ehi la ciurma! Io sono Mezzetess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Unturned 3.0 con Marco Tantotto Siamo di nuovo qua sulla pay, siamo di nuovo qui nella nostra fantastica isola maledetta dagli zombie Ciao Marco, cosa ci racconti? Ciao a tutti, questo è il giorno di paga dato che andremo a sbagliare un benzinaio che deve per forza avere la nostra fiamma sidrica E' uno zombie che saltella adosso una macchina, normalmente Va bene, a parte quelle cavolate, come va a mazzer? E' da un po' che non ci si sente Ti sei allontanato dal microfono? Ti sento meno forte di prima? No, mi sono avvicinato Ah boh, vabbè, comunque, io sto tutto bene Volevamo andare in questo episodio e prendere la fiamma sidrica E quindi stiamo andando in quel di Charlotte Town L'idea originale è di andare a Allman Isle Un attimo solo, fammi stimare una cosa piccolissima L'audio del gioco ti sovrasta la tua volta Sì? Devo parlare più vicino? No, è il fatto che stiamo in macchina e la macchina fa un casino della madonna Beh, ma gli zombie che urlano fanno ben più rumore Vabbè, si vedrà un po' La macchina è più rumorosa Non posso neanche parlare troppo forte perché altrimenti si sfasa poi sul mio audio LOL, i problemi della registrazione Anche io non riesco a parlare tanto forte oggi No, ma io non è che non riesco più che altro Perché mi sfasa poi tutto in registrazione Non si sente più la tua voce o il gioco se parlo troppo forte io Giusto Allora, ci siamo quasi Allora, la prossima dobbiamo poi girare a destra Vuoi che ti racconti la mia avventura? Qua, qua a destra A destra, a destra, dove stai andando? Eh, lasciamo qua la macchina Ah, ok, potete anche metterla un attimo più vicino Tanto in questa città non dovrebbe essere più vicino Eh, ormai Io ero già sceso Qua c'è il benzinaio Quindi qua potremmo trovare la nostra fiamma ossidrica L'altra ipotesi era la città che abbiamo esplorato nello scorso video Bravo, così ce li attiri tutti in faccia Della colla Quello non voglio avere le allucinazioni Grazie, un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ma che non li attiro, guarda Sì Lasciamo che se ne occupi Lui è il pro con le... Ma qua c'è un altro generatore Ma ne abbiamo tre a casa Cosa ce ne facciamo? Lo lascio qua Facciamo una casa fatta di generatore Cannon ne abbiamo Metal bar serve a qualcosa Non so cosa serve la metal bar Ah no, non li stai tirando, no? No Hai tipo una comitiva che ti segue Quella allegra Un inventario E spensierata Tirla L'unica volta che ho usato E naturalmente chi è che le uccide? MAZZETESSE Ma oggi scop... Proveremo una cosa TPA MAZZETESSE Non sento niente TPA MAZZETESSE Non ci sono i comandi Ma sì che ci sono Ma tu non sei OP Wow, allora dovrò Credo che io potrei farlo Mi pare di avere i privilegi Ma tu no Perché non sei OP E teletrasportami da Ma non voglio teletrasportarti Sono... Ho sbagliato E sono anche... Meglio farlo Dove sei andato adesso? Ho sbagliato Invece di fare home Ma perché? Non cliccarlo mai quel pulsante Quando non hai un letto Ti teleporta comunque Cioè ti fa respawnare comunque Non usarlo mai Perché lo usi? L'audio almeno lo stai registrando E stai giro Mi decido di nuovo E faccio Il teletrasport a casa Tanto vale Mi prendi la mia roba Eh, dov'è la tua roba? Dove sono morti? Uh, dressing Questa è la superbanda Sprema Eri ancora all'inizio della città? Io sono zombie No, dov'è la tua roba? Non vedo niente qua Dove eri andato? Vabbè Parla forte che se no non ti sento Dove eri andato? Ah, no, ecco Ma eri indietrissimo rispetto alla città Non eri ancora entrato Sto arrivando in marzo Perché non Ma quanta cavolate ti sei portato dietro? Scusa, cosa te ne fai della corda? Sì, non avevo più spazio Nelle ceste Eh, non mi ci sto più Eh, ma non devi tenere tutto Scusa, la roba che non serve Ha visto che corda ne abbiamo un 300 triliardi Eh, non mi ci sta più niente Ho preso quello che riuscivo Senti, ma vedo Scusa, vediamo di Questa macchina 65% di benzina Non ti preoccupi MPH Beh, per una volta non sono morto io, ragazzi Cioè Solitamente sono sempre io quello che muore Ma anche la freccia Cosa te ne fai di una freccia se non hai l'arco? Non mi riuscire a dire la casa Allora Allora Vediamo dove sono Ma Cioè Vabbè Vabbè, non dico niente Però siamo pari Tu sei messo 3-4 volte No, ok, no Mi sto lamentando di tutta la roba che ti hai riportato dietro Scusa, come fai ad andare a raccogliere roba in giro se hai già l'inventario pieno? Non avevo l'inventario Già, no Tutto lo spazio Io avevo l'inventario vuoto e me lo sono riempito di roba tua Eccoti Boh, qua c'è la tua roba Adesso ti droppo tutto quello che Era tuo No Aspetta Sbaglio sempre pulsante Ok Hai bagato di nuovo l'inventario Non mi hai droppato manco un vestito Ma se ti ho droppato tutto? No, mi mancano ancora i pantaloni Questi chiodi Questo Boh Ok, dovrebbe essere tutto Ah, ti ho dato la mia tannica e non la tua Però vabbè, è uguale Boh, io ritorno a dove ero rimasto La prossima volta cosa clicchi? Ohm Visto che abbiamo una casa Lol È bellissimo che ci si vada lì Come si bagga questo gioco Allora, come al solito qua c'è un rave party Davanti al benzinaio Io non si riesco a fare con calma tutto Ok, questo è morto Non mi pare di cattaro così vicino Questi non mi hanno visto Non sento niente Di cosa mi stai dicendo? Ci sono un sacco di flare Non so cosa fare Ma come non mi senti niente? Adesso sì che ti sento Perché non parli sempre così? Perché devo parlare super vicino al microfono Non mi va Ok Ho trovato dell'acqua però del benzinaio Allora Tuga ne abbiamo un fracco Allora facciamo delle prove Prova a aumentare il volume del giocco Ma mi metto sopra la macchina così non mi ammazza Tanto ci vedrà Sì, lì, 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 lì Sì, perché tanto Nessuno ci rimane Allora Metto un attimo in power Usa la registrazione così posso sistemare il microfono Ok Che non è possibile Così va meglio? Molto Ok Ma adesso sei tornato lontano Cosa hai fatto? Parla? Non ho fatto niente Provo Ok, meglio Sì, sì E se aumento così? Prova Parla un attimo Eh Ho parlato Sì ma Hai detto una roba cortissima No, no, ok, va bene Comunque non l'ho trovata Va bene Io sono nella stazione di polizia a farmare un po' Eh, io non ho trovato la fiamma ossidrica Ah, avevo trovato il crick Che però credo di averti droppato in realtà, sai? Quando ti ho dato la roba Sì, me l'hai droppato a me Ah, ma c'è il meccanico qua Non sono entrato dal meccanico qua Allora Ti dicevo prima Ti racconto la mia esperienza sul Sardal PvP Ah, ecco Perché Marco ha provato anche un po' l'esperienza PvP Che a me non ispirava per niente Perché sono un nabbo come non so che cosa E quindi il PvP non mi ispira Beh, lì saresti stato ancora Sono un nabbo anche io Nel server PvP Cioè, siamo tutti nabbi Tutti Beh, tra i pro player che ti shottano Tipo Sì L'ho trovata Blowtorch Eccola qua Due Che fastidio Sì Ho trovato Missione con successo Marco, ne ho trovate due Ottimo Adesso arrivo No Creepy Ho corso E non sono riuscito a tirare il colpo A quello sciocco Di un essere saltellante Io quasi quasi me ne torno a casa Allora appoggiare queste cose qua Perché non ci servono in giro Ci servono più che altro a casa Se abbiamo da riparare qualche macchina Tanto tu sei arrivato con un'altra macchina, no? Quindi posso prendere una macchina e tornare a casa? Esatto Però effettivamente siamo un po' lontani da casa Forse è meglio andare a esplorare qualcos'altro Visto che qua ormai Quel che c'era da vedere si è visto Mi bevo un po' di colla Potremmo andare nell'isoletta piccola Ma non c'è niente No, adesso mi gira tutto il contrario Cioè se giro a destra Lui gira a sinistra e viceversa Oddio, non si capisce niente E mi ha dato solo l'un per cento di siete Oddio Oddio, non capisco più niente Prendo la macchina d'arancione io, ok? A parte che ho ancora il 50% di benzina Posso anche evitare di riempirla adesso Vado da qualche altra parte Visto che l'abbiamo esplorato, ok? Dove andiamo? Ah, ma potremmo andare anche a Ultron Isol Che è quella davanti qua Uh, c'è Pirate Cave Non l'ho visto Pirate Cave Non dobbiamo andare assolutamente là? Cioè la grotta dei pirati D'accordo Mi aspetti? Sì, ma tu dovevi arrivare dove sei tu? Dove sei tu? Ah, ti vedo Eh, no, dobbiamo andare verso la spiaggia Dietro al fronte Ok Perché ho la brutta mania di correre sempre Ma se corro poi non posso dare il colpo a quello violento con il tasto destro Tra l'altro Come ti ho detto Premo non si è ribaggato l'inventario Cioè? Perché prendi un'altra macchina, scusa? Perché dopo non mi va di farmela più Sì, un pagliaccio Giusto per metterla lì vicino Ok Cioè fai la staffetta con le macchine Eh, dobbiamo andare da questa direzione qua Da quanto ho capito Almeno da quello che dice la mappa Oh, ma la chat non sparisce più Non è quell'isoletta là? No, no, no Non è l'isoletta È qua sulla costa Ma ci si arriva solo dalla costa Non ha la strada Ah, la conosco Vieni, prendiamo la macchina Vabbè, ma ormai dovremmo esserci quasi, no? No, non ci siamo Prendo la macchina Ci mettiamo 40 anni Ok, credo che sia andato a prendere la macchina Vabbè, io sono di strada Sì, prima vuoi Se per caso mi raggiunghi Ci salgo sulla macchina Sì Ma si può fermare lo scrap metal Come si faceva nel 2 Cioè, si può picconare la roccia E ottenere dello scrap metal Non credo Ah, eh, infatti Ma non ci ho mai provato Eh, ma perché non c'era la roccia Fino a questa mappa qua Dov'è che è? Caverna dei pirati Dovremmo esserci quasi, no? Ah, sì, ancora un attimo Ah, ma è qua dove c'è l'acqua, forse Cosa fai, scusa? Tu la parcheggi in acqua la nave? La nave? La macchina Eh sì, la nave va parcheggiata in acqua Se com'è, io non ho ancora No, non ci sono visto, forse ci sono arrivato No, spettacolo È tipo casa mia Vuoi trasferirti lì? Ah, ma no, fa schifo Cioè, è tipo un metro quadrato E con dentro niente Mi sa che sono arrivato anche io No, perché non ti vedo Oh, cavolo Mi sono dimenticato una cosa anche Tipo che le macchine non vanno in acqua? No Devi cambiare gruppo Ma non c'è un Kaiser di sta grotta qua Ma sono dei pirati abbastanza pezzenti Non c'è un Kaiser Allora Non ci conviene andare sull'isola, scusa Non c'è niente qua Mi sono dimenticato di rimettermi nel tuo gruppo Di antarne Ah, perché ti sei tolto dal mio gruppo? No Si può switchare i gruppi Ah Ok E quindi sei in un altro gruppo ora No, dopo lo riswitcho Sì, ok Nel prossimo episodio Sì, ma tanto non è Vado a bere il caffè Ci vediamo dopo Un secondo Arrivo, mamma Ehm Torno subito Ok Concludiamo qua l'episodio E tra due minuti registriamo il secondo, ok? Ciao ragazzi Ci vediamo poi sull'isola direttamente Ciao 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 Ciao